Un saluto a tutti i telespettatori, una nuova rubrica sull'impresa. Siamo in compagnia di Lorenza Stroppa, editor dell'azienda Ediciclo di Portogruano. Benvenuta nei nostri studi di Mediamente Quattro. Le faccio un paio di domande per conoscere un po' l'azienda. Di che cosa si occupa effettivamente questa Ediciclo? Siamo una casa editrice, quindi pubblichiamo libri. Lo facciamo ormai da più di 30 anni e infatti abbiamo l'attivo adesso più di 700 titoli. Pubblichiamo con due marchi, Ediciclo Editore, che appunto dà il nome e anche la ragione sociale, e Nuova Dimensione, che invece è un marchio più legato al territorio. I nostri temi vanno dai libri dedicati al camminare, alla bicicletta, alla mobilità sostenibile, ai viaggi sostenibili, a invece con Nuova Dimensione, temi che riguardano di più la storia locale, la denuncia ambientale e comunque la quotidianità del vivere nel nostro territorio. Ecco, immagino che, non so se lavorate in tutta Italia, ma comunque qual è il vostro territorio? Dove operate proprio principalmente? Allora, noi nasciamo qui e naturalmente abbiamo molti contatti, molte collaborazioni con le realtà del territorio. Però in realtà abbiamo una distribuzione dei libri su tutto il territorio italiano, quindi una distribuzione nazionale curata da messaggerie e libri, e i libri vengono promossi da Promedi, e quindi i nostri libri si trovano in tutte le librerie d'Italia, più o meno, insomma, speriamo che sia così, e naturalmente collaboriamo con tutta Italia, anche per quanto riguarda le presentazioni, i vari eventi legati ai nostri autori, legati ai nostri libri. Andiamo alle fiere nazionali, tutte quelle più importanti, insomma, dal zona del libro alla fiera di Roma, più libri più liberi e altre. Ecco, diciamo che se qualcuno vuole pubblicare qualche libro, perché magari non serve che sia... Ma magari c'è chi scrive questi libri per passione, o anche i libri di poesia per passione, ecco, può rivolgersi evidentemente... Non per la poesia, non ne pubblichiamo più da diversi anni. Una cosa che mi sento di dire, siccome siamo sommersi dalle proposte, in realtà non siamo qui per fare un annuncio. No, no, beh, ma è giusto per chiarire... Certo. Perché io che ho fatto il tipografo, so che... Ho lavorato sull'editoria, so che le poesie erano uno strumento. Sì, no, poesie non ne facciamo, abbiamo però... Ho diversi temi, diverse collane, e quindi ecco, io suggerisco a chi ha questa predisposizione, ha già un libro nel cassetto, di guardare le nostre indicazioni sul sito, di verificare se il proprio libro davvero ci può interessare, poi nel caso di sottoporcelo. Ecco, immagino che lei conosca un po' la storia, anche se non è una delle titolari dell'azienda, ma conosca un po' la storia di questo ciclo. Sì. E ce lo può spiegare in due parole. Assolutamente, tra l'altro è una storia particolare che ci piace sempre raccontare, perché la casa editrice è nata, appunto, dicevo, più di trent'anni fa, nel 1987, da un gruppo di amici che in quel momento avevano appena finito di salire lo Stelvio, in bicicletta naturalmente, quindi erano ebri per questa fatica ripagata, e lì hanno detto, ma non c'è nessun libro che appunto racconta questo, quindi che mostra sia la meraviglia, lo stupore, l'emozione di essere arrivati in cima con la propria bicicletta, sia anche come farlo, quindi come prepararsi, che vi è seguire, eccetera. E quindi da lì è nata la prima guida. Diciamo che ha anticipato Facebook. Ha anticipato Facebook, ma più che Facebook, diciamo molti blog che ci sono adesso. Sì. Anche se se ne parlava un po' fuori onda prima, è vero che si vendono meno libri, come ahimè si guarda meno televisione, il problema della comunicazione è abbastanza ampio, e lo conosciamo tutti, però è anche vero che chi va a piedi, chi va in bicicletta, ha bisogno di una guida, e ha bisogno di una guida scritta da un esperto, quindi noi continuiamo a proporre libri, assolutamente. Le prospettive aziendali in questo nuovo mondo così che sta crescendo e sta cambiando giorno per giorno, quali sono? Naturalmente di continuare con i nostri temi fondanti, che appunto sono il camminare alla bicicletta, stringere sempre più relazioni, non solo con il territorio, dicevo prima collaboriamo con biblioteche, con librerie, ma anche con scuole, con enti, facciamo anche libri per conto di enti, che ci hanno tra l'altro dato molte soddisfazioni, l'ultimo l'abbiamo fatto con il Vegal, che quindi ha a che fare direttamente con questo territorio, con il Veneto orientale, ed è il libro Un paesaggio da ascoltare. Quindi continuare i legami forti che abbiamo con il territorio e naturalmente continuare ad espanderci anche a livello nazionale e anche all'estero, diversi nostri libri sono stati tradotti appunto anche in lingua, in tedesco, in inglese, uno addirittura anche in arabo, quindi insomma continuiamo a crederci e a proporre le nostre pubblicazioni. La ringrazio e speriamo di rivederci altro. Grazie mille, volentieri.